L'epica Sabrini si è alla ricerca della seconda vittoria nel girone di Supercoppa. Con una vittoria e due sconfitte, la compagine biancazzurra deve necessariamente vincere le tre partite del ritorno e sperare in due sconfitte della capolista Banco di Sardegna-Sassari se vuole accedere al turno successivo. Proprio i sardi, nella prima giornata di ritorno, saranno gli avversari dei brindisini. Rispetto alla sfida di lunedì sera, nel team di coach Vitucci ci potrebbe essere il ritorno di Alessandro Zanelli. Il capitano ieri ha svolto regolarmente l'allenamento, sta meglio e potrebbe, il condizionale ed obbligo, essere utilizzato contro la Dinamo. Un uomo in più per Frank Vitucci che garantirebbe più rotazioni, ma soprattutto offrirebbe diverse soluzioni tattiche con Topson utilizzabile anche come guardia. Sulla sponda Sassari, coach Gianmarco Pozzecco potrà fare affidamento sui suoi esterni per un gioco in velocità con pressione in difesa. Spisso e Pusica meritano particolare attenzione, considerando che nella vittoria su Brindisi sono stati autori in due di un 6 su 11 totale dalla lunga distanza, che la dice tutta sulle doti balistiche dei due registi. Per Brindisi sarà fondamentale aggredire in difesa e giocare in contropiede per non far schierare i sardi, forti sotto i tabelloni dei 213 centimetri di Bilan. Nel Palasport del Geovillage di Olbia, palla in due ore 17, arbitri Tolga Sain, Beniamino Manuel Attard e Marco Pierantozzi.